Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la nostra avventura qui su Flight Simulator, continuiamo il nostro tour verso Capo Nord. Oggi undicesima tappa che ci vedrà partire da Colonia, destinazione Orlinghausen, Orlinghausen, sicuramente pronunciato malissimo, però insomma il luogo è quello. Ci stiamo portando più verso il centro della Germania per poi proseguire verso la nostra destinazione finale. Ho cercato di fare come sempre una tratta quantomeno lunga il giusto, quindi il simulatore ci segna un'ora e undici, poi ovviamente va in base alla velocità che manteniamo di crociera e credo che staremo magari anche sotto un'ora. Vediamo poi ovviamente venti permettendo e anche per quanto riguarda magari le condizioni meteo generali che potremmo trovare lungo la tratta. Atterreremo in un aeroporto più piccolino rispetto a dove partiamo, quello di Colonia è decisamente più grande, un aeroporto comunque internazionale, quello d'arrivo un po' più adatto al tipo di aereo che stiamo portando. Vi ricordo un Cessna 172, quindi ho già caricato la mappa, stanno arrivando anche i miei compagni di viaggio, sia Sfali Xpears che Compariturid, in attesa che arrivano, intanto ci andiamo a caricare. Allora, come orario avevo messo prima le 16.30, però volevo andare un po' più sulla sera, giusto per rendere un po' più le cose difficoltose. Direi che tra una cosa e l'altra le 18.30 potrebbero andare bene circa, dai. Allora, ci dà già un'anteprima un po' del meteo che troviamo in partenza. sarà nuvoloso, credo che ci porterà fino alla fine questa nuvolosità. Vediamo se effettivamente poi ci sarà anche qualche scroscio di pioggia, oppure siamo fortunati, come sempre, che magari li troviamo soltanto in partenza o un pochettino sul finale, ma niente di che. Ascoltaro pure di mettere i guffi. Quindi, in attesa, insomma, che carica, partiremo dalla pista 14R, che è quella inversa dove siamo atterrati nell'episodio scorso. Ci teniamo un po', diciamo, in disparte dalle piste tradizionali in cui partono aerei decisamente più grandi di noi e atterriremo alla pista numero 4. L'aeroporto di destinazione è un po' particolare perché comunque c'è una pista comunque asfaltata, quindi non è un'aerovia da via superficie, cioè di terra o altro, però è comunque su un campo molto grande e vedendolo da lontano potrebbe sembrare un aeroporto con più piste, in verità, mentre credo sia un aeroporto dove decollano gli alianti, quelli che vengono, diciamo, trainati dai Cessna o da altri aerei per poi arrivare in quota e poi staccarsi, diciamo, dall'aereo che li sta attraenando e quindi poi volano sfruttando appunto le correnti perché ha una conformazione particolare. Insomma, poi una volta che arriveremo vi farò vedere. Allora, intanto che appunto arrivino i nostri compagni di viaggio iniziamo intanto a sistemare un po' la questione. Allora, avevo messo quasi 19, ma insomma qui c'è un bel bel sole, pensavo fosse un po' più sul tramonto, però vabbè, non è un problema. Allora, intanto andiamo a accendere il nostro Cessna. Questo davanti dovrebbe essere Svelix. Purtroppo per il momento, essendo così vicino, non vedo la targhietta del nome, ma dovrebbe essere lui. Allora, accendiamo anche l'avionica e diamo anche via al motore, così intanto va a riscaldarsi un po' a tutte le componenti del motore in attesa, poi che si vadano ad allineare anche i vari sistemi. Allora, andiamo a tirarsi un po' qui la luminosità degli strumenti. strumenti, bacon, strobo e taxi per la partenza, ovviamente. Allora, come quota direi che possiamo andare... penso sui 3.000 piedi possano andare bene. Non ci sono tratti particolarmente alti, quindi dovrebbero andare bene. Fly Director e nav messo su GPS nel momento in cui poi partiremo. Allora, quindi andremo, come vi ho detto in precedenza, a partire dalla 14R, che è praticamente sulla nostra destra. Quindi andiamo qui al cancelletto di entrata e partiremo. Da lì ci sarà la virata subito verso sinistra per intercettare poi la nostra rutta, che ci porta alla destinazione. nel cielo, per fortuna, sì, c'è qualche nuvoletta qua e là, però, insomma, non mi sembra niente di che. C'è un po' di vento, così mi indica la manica del vento qui, detto per gli amici salsicciotto, però non sembra niente di che. Allora, l'aereo è pronto, iniziamo a spostarci. Così ci mettiamo intanto nel cancelletto di partenza, in attesa che si vadano ad allineare anche i nostri amici. Allora, intanto andiamo a dare i flap. Ok, qualcuno che si sposta. Vedo che siamo, siamo comunque, siamo comunque noi. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Mi sa che non vedo le targhette. Spero che si riescano a vedere poi una volta che ci allontaniamo. Aspetta, mettiamoci nel cancelletto qui di entrata, nella pista. Ok, vedo Svelix e vedo quella di compare. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Spero anche loro riescano a vedermi. Allora, iniziamo ad allinearci. Così facciamo le procedure per la partenza. Non sembra arrivare niente in alterraggio. Io sono sempre Starbero che ci siamo trovati anche in fase di atterraggio la volta scorsa. Quindi diamo tutta manietta. Per fortuna non ci dà problemi. È abbastanza trasparente. Credo che il 320 stia forse arrivando verso di noi, però è abbastanza alto. 19.000 piedi noi facciamo assolutamente in tempo a partire e virare. Regoliamo un attimo il trim. Perfetto. Virata verso destra. Andiamoci a settare una velocità, una vertical speed di 800 piedi. Andiamo di autopilota. E ci siamo. C'avevo pure ancora le luci taxi. Accendiamo le nav. Certo è un po' da... Da criminali sta manovra passare sopra le piste, eccetera. Però vediamo anche la partenza dei nostri amici che ci seguono a ruota. Ok, ok. Siamo tutti in volo. Il tempo che ovviamente vanno ad allinearsi. Andiamo a togliere i flap. Così possiamo proseguire senza grossi problemi. E siamo già in rotta. Il tempo di arrivare ovviamente in quota di crociera. Forse 800... Quanto ho messo? 800 piedi sono un po' troppi, ma so. Andiamo a mettere un... 600 piedi pure potrebbero andar bene. C'è bisogno di salire chissà quanto velocemente. Tanto comunque vedete è abbastanza pianeggianti, diciamo, lo scenario. Quindi non abbiamo grossi problemi anche se saliamo con un radio un po' più tranquillo. Così tanto che piano piano saliamo andiamo anche a prenderci un po' di velocità. Andiamo a vedere i nostri amici che ci seguono. Stanno arrivando. Bene anche loro. Andiamoci a prendere la classica quadratura da sotto l'ala, diciamo. Così possiamo anche vederli qui. C'è un po' di vento in verità, però per il momento ce l'abbiamo quasi in coda. Non male. 11 nodi. 10, 11. Insomma, variante che può aiutarci assolutamente per quanto riguarda il tempo di volo. Perché comunque sia può spingerci un po' di più così non dovremmo faticare troppo con il motore. Anzi, potremmo anche benissimo andare a diminuirlo un pochettino nel momento in cui siamo in quota di crociera. E quindi l'aereo abbasserà il muso e andiamo a prendere velocità. Allora, sono... Sono tutti delle vicinanze. E quindi dobbiamo fare altro che attendere. Ovviamente finché siamo su questi scenari è abbastanza classico. E diciamo il paesaggio è abbastanza pianeggiante. Niente di particolare, insomma. Però è una tratta, diciamo, che dobbiamo fare per poter arrivare alla destinazione. Però siamo quasi arrivati verso la fine appunto della Germania. Quindi inizieremo poi a cambiare anche il paesaggio e anche eventualmente condizioni climatiche. Perché ci avviciniamo sempre più verso nord. Oddio che folate di vento paurose. Allora, andiamo a diminuire un pochettino per andare non proprio in arco rosso. Già che in arco giallo stiamo abbastanza al limite. Mamma mia, come se balla. Fortuna che il vento ce l'abbiamo di coda. Ma, insomma, sempre 11 nodi, 11-12. Sì, ci picchia, diciamo, più verso destra, da destra verso sinistra. Quindi non proprio ci spinge in maniera... Diciamo, da dietro. Però ci dà delle belle folate. Infatti, vedete, l'aereo deve anche andare a correggere la quota. Allora... Vediamo un attimo dietro i nostri amici. Vediamo sia Spedix che Compari, più altre, ovviamente, edichette di altri giocatori che stanno, ovviamente, sorvolando questi spazi. Io, come sempre, ragazzi, vi rinnovo l'invito. Se volete partecipare al nostro tour, siete assolutamente i benvenuti. Trovate in descrizione dell'ultima tratta il piano di volo di quella successiva. Quindi non dovete far altro che caricarlo nel gioco. Farvi trovare il lunedì alle 21, solitamente questo il giorno in cui registro la tratta. Vi fare trovare all'aeroporto di partenza e, sfruttando, appunto, il multiplayer del gioco, ci possiamo vedere e vogliamo, appunto, la tratta insieme. Quindi, diminuisco un po' la velocità che stiamo veramente andando belli spediti col fatto che abbiamo un bel po' di vento che ci spinge. Quindi, se volete, assolutamente, non ci sono problemi. La di destinazione è capo nord e, piano piano, insomma, ci stiamo arrivando. Stiamo volando col Cessna 172. Niente di simulativo, volo strumentale. Quindi, se, insomma, se volete unirvi a noi siete assolutamente i benvenuti. Quindi, così, ci divertiamo insieme. Non ci sono obblighi di TeamSpeak, di Discord. Insomma, ognuno vuole come vuole. L'unico obbligo, diciamo, è la tratta in modo da poterla fare insieme. Ma potete scegliere le condizioni che volete. Il modo che volete, volete farvela tutta manuale. Non ci sono assolutamente problemi. Ripeto, ognuno è libero di fare come vuole, insomma. Quindi non ci sono vincoli da questo punto di vista. È importante che magari mi fate sapere o nel commento dell'ultima tratta oppure in descrizione c'è il server Discord per metterci un attimo d'accordo per sapere se dobbiamo aspettare qualcuno o meno. Se no, magari per qualche ritardo qualcosa di fare trovare l'aeroporto di partenza. e poi noi siamo partiti perché non sapevamo di dove aspettare qualcuno. Quindi giusto per informare che si unisce un'altra persona al nostro gruppo e quindi dobbiamo aspettarlo. Insomma, per il resto, ripeto, non ci sono assolutamente vincoli. Allora, siamo per il momento andando bene e lottando ancora con questo vento che ci soffia. è arrivato a 15 nodi, insomma, non è proprio poco poco. Per fortuna ci spinge più che rallentare, quindi ci aiuta. Vedremo poi come sarà in fase di atterraggio, se rimarrà ancora dietro di noi o se virerà ed eventualmente ce lo troveremo frontale che ci aiuterà assolutamente per l'atterraggio. Allora, intanto abbiamo i nostri compagni di viaggio dietro di noi. Ci sono... Sì, qui c'è Spelix, compare un po' più a destra, ma insomma ci sono. E vediamo anche quanto è la distanza. Insomma, ovviamente siamo partiti, ma ripeto, il simulatore dava un'ora ai 11, ma sicuramente ci metteremo di meno. Penso un 45 minuti, penso 50 minuti. Dovremmo riuscirci. in base ovviamente poi a quello che troviamo, ma se le condizioni comunque rimangono queste non ci sono grossi problemi. Per fortuna un po' di nuvoletti qua e là, giusto per riempire il cielo, ma niente di particolarmente minaccioso e non credo le troveremo all'arrivo perché ormai ho imparato che quello che vediamo sull'orizzonte sta bello bello lontano e non è assolutamente nei pressi poi del nostro punto di atterraggio. Quindi non ci faccio molto affidamento se in lontananza vedo delle nuvole. Quindi vediamo effettivamente come sarà l'arrivo, ma non dovrebbero esserci assolutamente problemi mentre la nuvolosità e la pioggia, per esempio, è venuta a Roma, nello specifico, ma penso anche in altre parti dell'Italia, questo lunedì, sicuramente quella che è scesa da queste zone è andata a finire sulla nostra penisola. Allora, situazione comunque per il momento abbastanza tranquilla, ripeto, quindi non dobbiamo fare altro che attendere di arrivare a destinazione. dobbiamo ancora capire bene quale tratta fare per quanto riguarda la direzione vera e propria verso Caponard. sto ancora valutando un po' il giro da fare perché, come dico sempre, sto cercando di mantenere delle tratte più o meno su un'ora massimo proprio, anche perché, uno, la lunghezza del video che devo portare, due, anche le persone che volano insieme a me non mi sembra il caso di trattenerle per più tempo, quindi un'ora anche meno penso che sia il massimo insomma che si possa chiedere e quindi anche questa tratta insomma non vi nego che sia stata semplice da creare perché solitamente gli aeroporti piccoli sono comunque segnati nel simulatore però, diciamo, a un primo sguardo della mappa quando non si sta proprio zoomando moltissimo vengono elencati gli aeroporti principali, quelli un po' più grandi. Per andare nel dettaglio bisogna zoomare molto e questo in verità mi era sfuggito. Avevo trovato un altro molto più a nord di questo che stiamo raggiungendo adesso ma che portava via un bel po' di tempo portava via quasi un'ora e mezza insomma mi sembrava decisamente troppo e quindi andando poi a vedere un po' nel dettaglio quindi con uno zoom un po' maggiore ho trovato questo aeroporto sono andato a vedere effettivamente alla pista asfaltata preferisco le piste asfaltate perché comunque, ripeto, non sapendo che tipo di condizioni stanno utilizzando i miei compagni di viaggio le piste che non sono asfaltate solitamente non hanno neanche le luci potrebbero pure non avercelo quelle asfaltate però diciamo che c'è una buona probabilità che ce l'abbiano rispetto a quelle che magari sono in terra e quindi cerchiamo di rendere le cose un po' più semplici perché magari non tutti si sono già fatti, che ne so il volo per capire effettivamente come la tratta come sarà l'aeroporto di atterraggio quindi magari lo scoprono lì per lì come ho fatto io giusto l'aeroporto appunto di destinazione per cercare di dare comunque una rotta tranquilla anche ai miei compagni però c'è chi magari appunto lo scopre nel momento in cui la sta volando e quindi non è che stiamo a fare una sfida cerchiamo di rendere le cose un po' più semplici a tutti quanti quindi cerco sempre quando possibile di trovare appunto aeroporti con la pista asfaltata e quindi eventualmente illuminata di notte e questo in verità ripeto non è male perché vedendolo diciamo da lontano sembra che abbia più di una vista ora all'altra parte sembra ghiaia cioè sembra un asfalto molto molto consumato scusate e c'è ovviamente la pista normale asfaltata quindi però da lontano il colpo d'occhio sembra esserci più di una pista affiancata mentre effettivamente poi ne è una sola poi quando siamo nei pressi vi faccio vedere quello che quello che intendevo insomma però non ci sono problemi anzi meglio nel caso in cui uno sbaglia ma che atterra sull'altra ma quell'altra più che essere una pista sembra appunto più un vialetto mi viene da dire quindi non so effettivamente questo aeroporto come viene come viene utilizzato però ho visto che ci sono tipo di specie di mi viene da pensare dei camper o dei porta qualcosa quindi ho pensato potessero essere degli allianti perché sono particolari sembrano appunto delle roulotte perdonate il termine ma sicuramente non si chiamano così assolutamente sono là parcheggiati verso la 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 taxiway quando arriviamo ve lo faccio ve lo faccio vedere perché sono lunghi e la parte finale hanno il pezzo diciamo della da dire il pezzo della coda diciamo che va ad uscire però non ha sono comunque squadrati quindi è qualche qualche cosa che può chiudere le ali altrimenti cioè come faresti assolutamente quindi mi è venuta in mente la cosa degli degli alianti o di qualche altro tipo di 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 aereo che che ha la possibilità insomma di chiudere eventualmente le le ali però era era interessante come cosa sicuramente c'erano anche aerei più piccolini però dello specifico la sembra attrezzato per questo genere di di veivoli sarà interessante riguardo ora quando quando stiamo per arrivare vi faccio vedere la la cosa non sono andato effettivamente a a cerchiamelo diciamo dal vivo cosa cosa si si faccia insomma su questo quest'aeroporto ma una volta che terminiamo il volo vado a controllare perché sono abbastanza curioso di di saperne di più di questa di quest'aeroporto di di quale attività appunto si 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 svolgono quindi ci stiamo spostando ripeto più verso il il centro della della Germania per poi eventualmente come prossimo punto se non è troppo lontano andare in un aeroporto che sia prossimo alla alla costa in modo da poi vedere effettivamente come poter fare la la trasvolata un pezzo magari di di oceano lo andiamo a superare altrimenti dovremmo cercare delle altre vie insomma c'è sta il pezzo in cui c'è un po' di di terra però vediamo ripeto questa questo pezzo ancora non l'ho ben progettato vi dico la verità per quanto riguarda insomma la parte principale quella che stiamo facendo adesso è abbastanza semplice fai qualsiasi tratta che ti possa portare verso verso nord e non hai non hai problemi mentre da qui in poi magari non so neanche quanto effettivamente possa essere possono essere distanti i vari aeroporti tra tra un e l'altro penso che più andremo verso nord e più la distanza si allungherà quindi bisognerà cercare appunto di di trovare la strada migliore per poterci poter arrivare e collegare tutti i punti sarà una bella una bella sfida sono abbastanza sicuro che sarà divertente soprattutto ci saranno degli scenari che magari possono essere un po' monotoli perché ovviamente più andiamo verso nord gli scenari poi lasceranno posto il verde lascerà posto alla neve e al al ghiaccio però potrebbe essere comunque interessante come prima stagione diciamo così di questo nostro tour e come vi ho già detto anche negli episodi passati vediamo se progettare e pianificare anche una seconda stagione che ci riporti a casa diciamo quindi all'aeroporto di di urbe dove è iniziato tutto quanto allora intanto vediamo i nostri i nostri amici spelix sempre diciamo alla nostra sinistra guardandolo ovviamente frontalmente e compare durito invece un po' più a destra entrambi siamo sui 3000 piedi grossomodo spelix un filino più più basso ma insomma è quella la la quota che stiamo che stiamo mantenendo ci sono un po' di paleoliche anche in questa questa zona quindi vuol dire che il forte vento insomma è è di casa diciamo perché altrimenti non avrebbero installato paleoliche in punti in cui non non c'è tutto questo vento da permettere loro di di muoversi vento che per il momento varia qualche raffica sempre posteriore tra i 14 adesso 13 prima era addirittura 15 insomma come sempre abbiamo questa questa variazione di di vento che in verità ci ha accompagnato un po' per tutta per tutte le tratte il maltempo un po' meno ma il vento è sempre stata una una costante da quando abbiamo valcato le le alpi ma ci sta comunque qui spazi molto più aperti non c'è diciamo niente che possa fare da barriere quindi sono liberi di circolare un po' come vogliono e quindi si fanno molto più sentire rispetto alle prime tappe in Italia vi ricordo poi che c'è tutta la playlist per quanto riguarda il viaggio la parte anche molto bella per quanto riguarda anche i paesaggi ma anche la tratta stessa è stata quella del valico delle alpi in cui non siamo andati ovviamente sopra ma abbiamo sfruttato i vari le varie vallate per poterci fare strada e appunto andare dall'altra parte con sosta a Eastbrook e da lì in poi siamo andati in Germania è stato molto molto figo anche abbastanza impegnativo perché comunque sia ho dovuto crearmi la rotta punto per punto per cercare di farmi spazio tra le vallate presenti ed è stato molto molto interessante le quote più alte punti in cui le montagne sono molto molto vicine ma c'è spazio diciamo sufficiente per per poter passarci con i nostri aerostata è arrivata una bella sfida se volete riprendervi quegli episodi trovate tutto nella playlist dedicata appunto al tour mentre nella playlist di flight simulato trovate oltre ai gameplay su l'airbus 320 oppure il boeing trovate anche dei tutorial sulla navigazione sulla pianificazione anche dei voli insomma quindi trovate un po' di informazioni sono un po' datati perché le ho fatti un po' di tempo fa però le emozioni sono quelle magari con i vari aggiornamenti sia per quanto riguarda gli aerei ma insomma le procedure sono sempre quelle magari potrebbero essere cambiate alcune sequenze diciamo di di tasti ma ripeto alla fine è sempre quello un po' come imparare a portare a guidare la macchina che sia una panda che sia una ferrari o che sia che ne so una una maserati alla fine le meccaniche sono quelle cambieranno le diciamo i cavalli che abbiamo sotto al caofono ma insomma il volante sempre quello e i pedali sempre quelli sono insomma quindi da quel punto di vista la tecnica rimane la medesima per ognuna delle vetture e quindi è uguale insomma se volete dargli un'occhiata stavo guardando pilot cosa lì che ha avuto forse un mancamento sprofondato nel nel terreno e stefolate di vento che si stanno facendo sempre un po' più presenti in in questa in questa parte allora mancano un 34 miglia quindi circa un 15 minuti per la nostra destinazione ci abbiamo ancora un pochettino da da volare credo che siamo più o meno a metà vedendo la mappa grossomodo sì forse l'abbiamo pure passata un po' alla metà ma veramente di veramente di poco vediamo anche la la mappa ovviamente messa un po' storta diciamo però diciamo che poi da qui dovremmo cercare di trovare il punto dove poter andare quindi vediamo se eventualmente andare qui che credo sia quello più più facile diciamo però bisogna vedere anche quanto è la distanza perché insomma non sembra perché stiamo abbastanza poco zoomati ma c'è un bel po' di strada altrimenti il prossimo sarà eventualmente o questo etnw anche se mi sa che è un po' troppo vicino o appunto quest'altro eths e vediamo se effettivamente è una tratta che volendo possiamo fare senza grossi problemi così a occhio sembra sembrano più o meno simili o forse forse un po' più distanti però ripeto le tempistiche che ci dà il simulatore non sono mai poi realmente quelle che si vanno a riscontrare una volta che si fa effettivamente la tratta perché entrano in gioco come vi ho detto diversi fattori se trovi appunto in questo caso vento a favore che te spinge è normale che di tempo lo vai a guadagnare oppure per quanto riguarda anche vento a sfavore che ti frena un pochettino quindi potresti impiegarci un po' più di tempo c'è da dire che il diciamo il tempo che viene indicato nella tratta non va a a tener conto della velocità di crociera io non so come viene calcolato sinceramente quindi potrebbe pure essere calcolato con una velocità inferiore adesso stiamo quasi a 120 nodi con queste folate insomma che ci fanno un po' aumentare e diminuire ma grossomodo siamo siamo lì quindi non so effettivamente quanto quale sia appunto la velocità che tira fuori quel dato insomma quindi è un è un dato indicativo è sempre capitato di fare meno di quanto fosse riportato però perlomeno lo tengo in considerazione perché se quello mi segna appunto un'ora e undici adesso per questa tratta so per certo che staremo sicuramente sotto all'ora di volo o giù di lì ma se inizia a segnare magari già un'ora e trenta sicuramente un'ora e venti di volo ci sta ed è già un po' tantino come vi avevo detto all'inizio però vediamo insomma ora abbiamo dato un'occhiata veloce ma vediamo insomma come come sarà poi la la prossima la prossima tappa che ci porta ripeto sempre più vicino alle alle coste del dell'oceano e da lì poi andremo dall'altra parte iniziamo a vedere degli altri degli altri paesaggi allora mancano venticinque miglia più o meno circa un undici minuti quindi non non siamo poi così distanti il top of the sand ce l'abbiamo qui insomma è abbastanza prossimo quindi dai 3000 in cui siamo adesso scenderemo 1000 dovrebbe dovrebbero andare bene un radio di discesa abbastanza tranquillo insomma dovremmo stare attenti più che altro per la per la velocità perché comunque andando in discesa andremo ad accelerare ancora di più e con le volate poi rischiamo di andare un po' in overspeed ma giochicchiamo anche con la con la manetta per mantenerci insomma nella giusta nella giusta porzione di velocità per evitare di andare troppo troppo oltre allora diamo un'occhiata dai nostri amici intanto abbiamo uno spedex di qua e compare che credo sia in mezzo a tutte st'altre ah no è di qua si è spostato alla nostra sinistra anche lui guardandolo frontalmente sennò alla nostra destra siamo siamo quasi prossimi ragazzi al top of the sand e l'aeroporto primamente ancora non si vede che è abbastanza più più distante però diciamo intorno a questa zona qui un po' come viene riportato anche sulla mappa diciamo su questo limbo di di collinetta un po' più più alta rispetto a tutto il resto del del paesaggio ma non è non è niente di che insomma è assolutamente difficile insomma l'approccio e anche questa volta il meteo ci ha ci ha graziato per la gioia di Felix Peirce che come avevo già detto anche la volta scorsa non ama il il maltempo e anche quest'oggi insomma ci siamo cavata con solo della nobulosità peccato perché avevo messo un orario pensando che si facesse più tardi in verità mentre non avevo pensato al fatto che più sia personato ovviamente più la giornata fa buio più tardi e quindi avrei dovuto mettere intorno alle 19 forse 19 e 30 già da subito vabbè per la prossima volta vedremo non escludo ovviamente ragazzi se una volta faremo la tratta in notturna sfruttando le condizioni reali soprattutto perché nella parte magari più al nord in cui la fascia diciamo di giorno si fa sempre più diciamo più corta potrebbe essere interessante insomma come cosa anche perché comunque l'appo di scenari a parte la neve non c'è molto da vedere e quindi una tratta in notturna diciamo non toglie nulla allo scenario nonché qua ci sia insomma molto da vedere cioè campagna insomma del verde città e quant'altro c'è anche la foschia ma ovviamente ripeto le condizioni meteo sono quelle reali è soltanto l'orario che cambia quindi è plausibile che si possa vedere della 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 nebbia o della foschia perché appunto è comunque un orario serale quello simulato come come meteo allora siamo quasi al top of the sand ragazzi eh ci siamo quasi l'aeroporto dovrebbe essere da qualche parte qui ma adesso dovrà ancora caricarci lo scenario quindi ancora non non si vede ma praticamente anche la pista 4 è dritta per dritto quindi non ci possiamo assolutamente sbagliare quindi aspettiamo di arrivare al top of the sand e iniziamo la la nostra discesa che ci porterà nell'aeroporto di di destinazione pista 004 rimarremo per tutta la settimana magari visitiamo i posti in intorno e poi ripartiremo sempre lunedì prossimo per per la nuova tratta vediamo vediamo come sarà come sarà il meteo se becchiamo un bel temporale di quelli come si deve così ci facciamo una bella lavata sto po' rocesna che insomma è un po' un po' zozzo visto tutti i tour le tappe che abbiamo già fatto quindi una bella lavatina ci starebbe tutta allora ci siamo quasi eh ci siamo ci siamo quasi top of the sand prossimo e l'aeroporto è questo qua se vedete c'è questa parte che è abbastanza spero riusciate a vederla è abbastanza pianeggiante e c'è una striscia di asfalto sulla sulla sinistra la pista non è manco troppo lunga quindi bisognerà prestare attenzione beh insomma non dovrebbero esserci grossi problemi però non si ha diciamo quella tranquillità di vabbè scendo con un po' più calma perché tanto c'ho pista poi per per allentare poi ci sono i campi eventualmente andiamo a dare una sfalciata lì nei pressi dell'aeroporto allora siamo quasi al top of the sand ragazzi quindi quasi 4 minuti e 17 all'arrivo e il top of the sand ci siamo arrivati adesso quindi iniziamo a scendere andiamo a metterci mille piedi andiamo a mettere un 500 piedi di radio di discesa e andiamo anche a togliere un po' di manetta e accendiamo anche i luci di landing ok togliamo un po' ancora manetta perché ovviamente ora con il vento appunto a favore la velocità va ad incrementarsi si allora ci siamo ci siamo piano piano ci facciamo questo avvicinamento 600 piedi possono abbastare la pista non ha le luci papi quindi non abbiamo l'aiuto delle luci per sapere se effettivamente siamo con un ratio sufficiente o troppo basso o troppo alto quindi dobbiamo affidarci alla nostra vista e compare è lì e Felix è qui pare forse si è allargato un po' troppo ok sta ritornando più verso di verso di noi ok 1800 piedi in discesa ovviamente nei pressi andremo a togliere il pilota automatico e atterreremo manualmente la pista è qua questo pezzo di asfalto qua allora per il momento stiamo andando bene andiamo a togliere ancora un po' di manetta ci stiamo avvicinando appunto alla pista di atterraggio vedete come vi dicevo ci stanno queste striscette che sembrano essere delle delle piste invece sono tipo fatti in ghaia insomma perlomeno vedendo come sono state ricreate nel nel gioco mentre la pista sta proprio da asfalto e questa qui sulla sulla sinistra allora mille mille piedi andiamo a dare anche un colpetto di flap e direi di togliere il pilota automatico e cerchiamo di portare a casa il nostro il nostro aereo regoliamo un po' il trim c'è anche questa vegetazione abbastanza alta nei pressi della della pista però l'importante è cercare di allinearsi bene anche un filino troppo alto diminuiamo un po' la velocità passa anche una strada credo vicino ancora troppo alto abbassiamo un po' ok non mi come si balla ok lineati pista 4 è nato busquello non ho capito cosa fosse eccoci togliamo manetta ok eccoci qua freniamo perché la pista non è particolarmente lunga ok e ci siamo ragazzi usciamo alla fine della della pista così possiamo girare e vediamo frenato troppo tardi ok sono arrivato comunque un po' lunghietto ma ho frenato tardi ok vediamo un po' i nostri i nostri amici eh fatto che ci andiamo a posizionare vedete qui sulla testa quello che vi dicevo sono non so gusci di qualcosa forse appunto di di alianti non lo so comunque ci andiamo ci andiamo noi ci taxi spegniamo le landing e le nav e piano piano ci ritorniamo sta arrivando felix attenzione qualche saltello ma comunque è sulla sulla pista eccolo qui che ci sfreccia sulla sulla sinistra ok spero che compare non atterri sulla pista sulla taxiway spero che perché lo vedo un po' ok si sta spostando ok ve l'ho detto perché è da lontano sembra che siano tutte piste perché alla fine non è poi così più grande della della taxiway ok sta arrivando anche compare e arriva anche lui grande gran bello atterraggio ottimo 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 ok tutti tutti arrivati se ne salvi spero che gli sia piaciuto è stato secondo me un bel un bel atterraggio è un bel avvicinamento questo particolare comunque in aeroporto più piccolo del solito abituati con le piste che le un po' più grandi degli aeroporti internazionali ci fermiamo pure qua dal tizio e l'ac e t-chox ok spegniamo le luce spegniamo anche il motore e a posto così ok vediamo anche i nostri i nostri amici speriamo che sta facendo la taxi e attendiamo insomma che arrivino giusto per vedere quanto è il tempo 40 minuti 40 minuti e 36 quindi grossomodo insomma siamo il tempo che vi avevo detto insomma decisamente di meno di quanto ci segnava lui che era un'ora ai 10 quindi io ragazzi non vi resta che salutarvi intanto che i nostri amici si si posizionino qui di fianco io come sempre vi ringrazio della visione vi invito sempre se volete a partecipare al nostro tour siete assolutamente benvenuti ragazzi fatemelo sapere che ci divertiamo qui purtroppo devo mettermi per forza così se no c'è la tettoglia e non si vede niente ripeto fatemelo sapere nei commenti se avete anche delle difficoltà cerchiamo di risolverle insieme ma ripeto se avete un minimo di domestichezza con il volo e con il Cessna non avete assolutamente problemi quindi avete visto come voliamo ognuno ripeto è libero di volare come vuole nei modi come vuole lui manuale tutto automatico insomma non ci sono non ci sono assolutamente nessun tipo di problema io devo spegnere però non accende ok devo girare qui mi sarei aspettato che se fermasse se spegnesse pure qua vabbè non ci interessa allora io ragazzi vi saluto se volete lasciatemi un mi piace un commentino iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto in descrizione poi trovate i link a tutti i miei social in alto a destra la like che vi riporta tutta la playlist del titolo se avete saltato qualche appuntamento del nostro tour io di nuovo vi saluto ringrazio come sempre Felix Peirce e Comparituridu per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao a tutti i miei sociali Grazie a tutti